Oh nuova settimana, nuova top 5 del 2017 e forse è quella in cui ci sarà più battaglia perché questa è una fascia dove ci sono gli ex top di gamma o meglio i top di gamma che si sono leggermente svalutati nel corso dell'anno e dove ci sono i medi top di gamma, i flagship killer che invece arrivano con questa fascia di prezzi. Quindi veramente battaglia assoluta. Siete pronti? Io assolutamente sì, quindi non perdiamo tempo e andiamo a scoprire i migliori 5 smartphone sotto i 600 euro. Allora ragazzi qui è veramente difficile, sono sicuro che in molti magari non condivideranno al 100% la nostra classifica e ci sta perché insomma ci sono tantissimi smartphone in questa fascia di prezzo e lasciarne fuori alcuni è veramente difficile. Prima però di partire voglio fare due premesse. La prima è che in tutte queste classifiche stiamo inserendo soltanto smartphone che abbiamo recensito quindi non possiamo inserire smartphone che non abbiamo provato per il semplice motivo che non li abbiamo provati quindi non possiamo dare un parere non solo sul dispositivo nella recensione ma anche sul dispositivo rispetto ad altri che abbiamo provato. Sarebbe insomma incoerente inserire ad esempio lo smartphone XY da 500 euro in questa classifica dicendo che è meglio di uno smartphone che magari abbiamo provato perché appunto non l'abbiamo provato. Quindi molto semplice questo ragionamento e l'altra cosa che mi sento di dirvi è che comunque queste classifiche sono state tutte condivise non solo da me ma da tutti gli altri ragazzi che si occupano delle recensioni su tech. Ad esempio il quinto dispositivo che troviamo in questa classifica appunto al quinto posto è uno smartphone che non ho provato io ma che ha provato il nostro carissimo Nicolò Cumerlato ed è Xiaomi Mi 6. Xiaomi quest'anno si potrebbe dire che ha fatto un po' anche lei il compitino un po' come Huawei con il P10 ha migliorato il dispositivo in tutto ha introdotto un processore molto performante come lo Snapdragon 835 6 giga di RAM ha migliorato alcuni aspetti estetici anche del dispositivo però l'ha reso un po' più simile a proprio un Honor 9 o qualcosa un po' più ancora indietro come un S7. Ovviamente sì è vero però questo dispositivo è assolutamente veloce prestante ha un ottimo schermo sì non ha il connettore jack ma chi se ne frega sì non è borderless ma chi se ne frega è un telefono che quando lo utilizzate comunque però vi restituisce delle buone sensazioni e che alla fine è comunque sempre uno Xiaomi Mi 6 cioè è uno dei top di gamma di Xiaomi dell'anno. E quindi sulla qualità generale non si discute se abbiamo già visto Xiaomi protagonista della prima fascia con ben tre dispositivi con i top di gamma stenta un po' di più perché ad esempio potevamo anche inserire Xiaomi Mi Mix 2 ma è un telefono estremamente di nicchia. Mi 6 però rientra in questa classifica perché perché è un telefono che assolutamente vi restituirà tutto ciò che pagate in sostanza ma ormai costa ben meno dei 600 euro iniziali si trova a cifre molto molto interessanti ed è probabilmente una delle migliori proposte dalla Cina se volete uno smartphone top di gamma. Restiamo in Cina anche per la quarta posizione si parla di Huawei Huawei che se questa classifica fosse stata fatta sei mesi fa questo smartphone avrebbe avuto un'altra posizione un'altra posizione decisamente più a favore purtroppo ormai i mesi sono un po' passati e quindi nonostante resti probabilmente il miglior top di gamma per autonomia su questa fascia di prezzo perché Huawei ci stupirà settimana prossima da questo punto di vista resta comunque uno smartphone tra i migliori 5 in questa fascia attualmente disponibili in commercio. Lui però non ha un'idea di design particolarmente futuristica ricercata è un device intanto non in vetro che comunque è la nuova tendenza ormai una tendenza ciclica che ritorna quest'anno ma non è baseless ha dei cornicioni abbastanza importanti però ragazzi va veramente molto bene. Poi la batteria dura tantissimo schermo full hd 5.5 pollici ottimo processore veloce e che consuma poco ottima dotazione di ram due fotocamere posteriori veramente molto buone ingegnerizzate con leica black and white rgp insomma conosciamo tutto di questo p10 plus un sensore di impronte frontale molto preciso e veloce però insomma si manca un po' la magia ormai per questo p10 plus che poteva essere decisamente più in alto solo per la dotazione tecnica da un punto di vista estetico e di effetto wow perde qualcosa e quindi arriva alla quarta posizione. Al terzo posto c'è un pareggio sempre dalla cina ma in realtà è come se fosse lo stesso dispositivo e qui anche se questa azienda avesse avuto una politica leggermente diversa avrebbe probabilmente chiuso questa nostra classifica in prima posizione ma purtroppo ha voluto spezzettare i suoi smartphone ha voluto creare un po' di confusione negli utenti ha voluto deludere magari chi aveva acquistato one plus 5. ad inizio anno o comunque nella prima metà dell'anno perché poi ha presentato one plus 5t insomma one plus si stiamo parlando di lei quest'anno ha presentato questi due telefoni un one plus 5t molto conservativo con un'estetica che non dava di molto sembrava ispirato tantissimo ad un iphone 7 plus poi l'azienda si è un po' rimessa in carreggiata con un one plus 5t bezel less 18 noni riconoscimento del volto però 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 l'asticella del prezzo si è alzata. rispetto ai vecchi one plus si è alzata parecchio ormai si trova sì sotto i 600 euro questo smartphone è sempre stato sotto i 600 euro però non lo so a me la scelta di avere questi due modelli estremamente simili ma uno logicamente preferibile all'altro senza ovviamente dire ai clienti che no magari aspettate a comprare one plus 5 perché arriveremo tra qualche mese col 5t che sarà decisamente più figo beh se l'avessero detto forse nessuno avrebbe comprato il one plus 5 ma di sicuro sarebbe stata una scelta un po' più corretta e proprio per questo motivo one plus guadagna solo la terza posizione. poi sul telefono non si discute sia sul one plus 5 che sul one plus 5t abbiamo una dotazione tecnica spaventosa tanta ram tanta potenza del processore snapdragon 835 un ottimo schermo in ogni caso sia sul 5 che sul 5t forse meglio sul 5t perché il 5 aveva qualche problema tecnico di assemblaggio che è stato risolto sul 5t un buon audio insomma poi l'esperienza software sempre aggiornata tanta community dietro insomma one plus la conosciamo e questa è la sua strategia da un po' quest'anno secondo me hanno forse sbagliato un pochino con la distribuzione dei prodotti su come hanno scelto di vendere questi due dispositivi però non si discute poi sulla qualità finale del prodotto che se lo acquisterete vi darà grosse soddisfazioni sia one plus 5 sia one plus 5t è già tempo della seconda posizione qui c'è uno smartphone che sono sicuro non vi aspetterete perché uno smartphone che conoscono solo gli addetti ai lavori fondamentalmente perché infatti non si vede nella grande distribuzione non si vede in mano alla gente purtroppo ma pensate un po' è uno smartphone di HTC ragazzi che non è proprio l'ultima arrivata però quest'anno ha avuto delle difficoltà e quindi anche in tema di commercializzazione il telefono non si è visto tanto però io l'ho provato l'abbiamo recensito ovviamente tutti i link alle recensioni sono qui sotto in descrizione ed è forse il miglior smartphone in termini di prestazioni pure complici cosa lo snapdragon 835 l'ottima ram ma anche e soprattutto una sense che è sempre l'interfaccia di HTC che quest'anno è stata snellita tantissimo animazioni ridotte praticamente a zero quindi un telefono estremamente fulmineo sensore di impronte velocissimo anche quello fotocamera ottima tra le migliori in assoluto senza troppi giri così doppie fotocamere effetti di qua effetti di no fotocamera pura che punta e scatta fa delle foto ottime la batteria dura non come quella di altri top ma dura e appunto c'è il software che è sempre molto molto snello forse in alcuni punti è un po' incoerente perché si vede ancora qualcosa della vecchia sense qualcosa della nuova sense che praticamente è android stock però insomma veramente questo HTC 11 ora abbiamo visto anche i nuovi live l'11 plus insomma nuovi telefoni che non abbiamo provato ancora ma che proveremo presto e quindi vi faremo sapere anche i nostri pareri su questi smartphone ma per ora il top di gamma di HTC è HTC 11 e guadagna la seconda posizione in questa classifica se però non volete incognite come quella di HTC 11 che pur essendo buono alle spalle c'è un'azienda un po' in difficoltà bisogna dirlo se non volete ricorrere insomma a OnePlus e alle sue politiche di vendita particolarmente strane in questo ultimo periodo se non volete un telefono vecchiotto nell'estetica come Huawei P10 insomma ragazzi lo sapete il miglior smartphone probabilmente dell'anno in tutta questa classifica nonché appunto nello specifico sotto i 600 euro lo sapete qual è ed è oggettivo è Galaxy S8 siamo dello standard siamo dello plus insomma quello che volete parleremo più che altro dell'S8 perché lui si si trova quasi sempre ormai sotto i 600 euro ma anche l'S8 plus su alcuni siti ormai ci siamo quindi uno smartphone fantastico non c'è molto da dire non c'è molto da dire uno smartphone fantastico non è un video sponsorizzato da Samsung questo ma è semplicemente la mia esperienza con questo telefono l'ho provato ad aprile maggio l'abbiamo avuto con un mese di anticipo rispetto alla commercializzazione del telefono siamo stati all'evento Samsung di Milano e appunto abbiamo potuto conoscere questo smartphone con un mese di anticipo rispetto all'uscita e già dall'inizio si è dimostrato un telefono estremamente valido un'estetica pazzesca bellissima infatti poi l'hanno ripresa anche nel Note 8 potenza da vendere però e qui bisogna tirare le orecchie qualche scattino soprattutto alla V ormai c'è anche notevole certo sì potevano esserci 6 giga di run sarebbe stata una bestia però anche 4 vanno bene fotocamera che è sempre tra le migliori probabilmente la migliore in commercio fino a questo momento e poi anche una dotazione spaventosa dal punto di vista software un software completissimo quest'anno ripensato snellito reso un attimo più intuitivo ma comunque completissimo veramente ottimo lavoro da parte di Samsung che sta anche portando Oreo su S8 e su S8 Plus quindi ragazzi S8 purtroppo è ancora lui il migliore dopo tanti mesi è ancora lui il migliore in questa fascia di prezzo e quindi è la nostra scelta come smartphone tra i 400 e i 600 euro veramente anche lui è uno smartphone che vi restituirà tutto ciò che spenderete certo rispetto al video di due settimane fa a quello di settimana scorsa questi sono smartphone che costano di più ma bisogna anche dire che offrono molto molto di più e tra questi quello che offre di più è appunto Galaxy S8 bene ragazzi quindi questa era la nostra top 5 degli smartphone sotto i 600 euro torniamo settimana prossima con l'ultima di queste top 5 che in realtà sarà una top 3 perché di smartphone da 800 o più ce ne sono solo 3 in questo momento e speriamo che restino solo 3 anche se credo proprio che non sarà così ma noi speriamolo fortemente e quindi ci risentiamo settimana prossima con la classifica conclusiva dei top 2017 ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech.it